Leonardo Silva Reviso 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 Re anni e vivevo con la persona che amavo. Avevo raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissata allora. Una relazione d'amore felice, la casa appena comprata, uno studio ben avviato, molti clienti, un buon reddito e devo dire che ho faticato molto per arrivarci prima all'università, poi all'esame di stato e poi diversi anni di pratica presso altri studi, come sapete, spesso sottopagati. E ero soddisfatta del lavoro che facevo perché mi dava grande autonomia, cosa che io desideravo moltissimo, e poi mi gratificava sentirmi riconosciuta come professionista, lo devo ammettere, mi piaceva sentirmi chiamata dottoressa. Eppure ero molto stanca, a volte esausta. E certe sere quando tornavo a casa dallo studio mi sentivo svuotata, come se tutte le mie energie fossero state risucchiate dentro di me dal lavoro di quella giornata. E non riuscivo ad avere bambini. I medici a cui mi ero rivolta mi avevano consigliato di fare delle cure ormonali, con un improbabile parto plurigemellare e forse, probabilmente, anche una gravidanza assistita. Una prospettiva che sinceramente non è che mi entusiasmasse molto. Poi avvenne quello che, in termini di complessità, potremmo chiamare un innesco. L'innesco è come il fiammifero che può scatenare un incendio. Andai da un medico che conoscevo da anni, un antroposofo. Non so se conosciate questo termine. Andavo da lui quando non riuscivo a curarmi con la medicina tradizionale e, proprio perché ero un antroposofo, avevo una visione più integrata del rapporto tra mente e corpo di quanto avessero mostrato gli altri medici a cui mi ero rivolta. E dopo la visita lui mi ha detto che, se volevo veramente avere un figlio, avrei dovuto smettere di fare il lavoro che facevo, che bloccava tutte le mie energie a livello mentale, assorbendole completamente. E che sarei dovuta andare a coltivare la terra, a fare l'agricoltore. Insomma, letteralmente a mettere le mani nella terra. E forse, dopo un anno, sarei anche potuta rimanere incinta. Avevo toccato un punto molto debole dentro di me, forse la mia parte più vulnerabile. Io fino a quel momento avevo scelto solo strade che erano già state segnate da altri, che erano dritte e sicure come le strade di una città. E anche il lavoro che facevo, per quanto è vero, mi stressava e mi stancava, però mi dava grandi certezze. Io sapevo molto bene cosa fare e come. Ero brava nel loro che facevo. E' anche vero che, e devo ammetterlo, che io e il mio compagno sognavamo un giorno effettivamente di andare a vivere nella natura. Sognavamo di avere un piccolo pezzo di terra, magari un piccolo orto, qualche albero da frutta, qualche olivo. Però pensavamo di farlo una volta andati in pensione, insomma, quando avremmo smesso di lavorare, da anziani. E invece lui mi stava suggerendo che potevo cambiare radicalmente la mia vita, andare a fare un lavoro che non avevo mai fatto, di cui non sapevo nulla, in un luogo che non sapevo nemmeno quale sarebbe potuto essere. Una scommessa totale e, devo dirlo, veramente un'incertezza totale. Ma se avesse avuto ragione? Quanto tempo potevo ancora aspettare prima di decidermi di avere un figlio e prima di decidermi quindi di abbandonare casa, lavoro, città per provarci? E avevo già 35 anni. Lo so che sembra un'età giovane, ma in realtà come donna sappiamo che non abbiamo molto tempo davanti a noi per provare ad avere una gravidanza. E l'innesco è vero che può accendere e far scoppiare degli incendi, ma a me almeno procurò una valanga di domande senza risposta. Se non ci fosse riuscita e se avessi sbagliato tutto, e poi sapevo mica se sarei stata capace di farlo. E poi che mi assicurava che veramente sarei rimasta incinta. E poi la domanda più difficile di tutte, avevo il coraggio di cambiare radicalmente la mia vita? Avevo il coraggio di rinunciare comunque a quello che avevo costruito fino a quel momento, che mi dava tranquillità, certezza, serenità, prospettive per il futuro. Insomma avevo una paura terribile di sbagliare tutto. Ma ho deciso, abbiamo deciso i miei compagni insieme, di farlo lo stesso, di provarci, di fare un salto insieme nel buio. Ben sapendo che l'unica certezza che avevamo era che non saremmo mai più potuti tornare indietro. E ho capito che il coraggio non è agire senza avere paura, di agire nonostante la paura. Del resto, se non ci fosse la paura, il coraggio non avrebbe nemmeno ragione di esserci, di provarlo. E mi sono anche resa conto che spesso coraggio e follia vanno a bracetto. O almeno quello che altri, osservando quello che stavamo facendo, che stavamo facendo, giudicavo non avere propria follia. E adesso chiedo a ognuno di voi, provate per un attimo a tornare a un momento della vostra vita in cui vi siete trovati, anche voi, di fronte alla necessità di dover fare delle scelte radicali, improvvise, in cui non sapevate nulla di quello che avreste trovato prendendo quella strada. Eppure avevate ben chiaro invece cosa vi sareste dovuti lasciare alle spalle per scegliere un'altra strada. Una strada percorsa da pochi, forse da nessuno. Qual è stato il vostro innesco e quali paure avete provato? Quali domande vi siete fatti? Questa è l'incertezza. E se avete comunque scelto quel sentiero nascosto che mi spaventava tantissimo ma che pure al tempo stesso vi stava chiamando, è questo il momento dedicato al coraggio. Così, lo abbiamo fatto. Ho passato i clienti dello studio a una giovane collega, abbiamo venduto casa, abbiamo trovato il luogo che ci ispirava. 25 ettari di terreni abbandonati da più di 50 anni, in uno stato pietoso, coperti di rovi, circondati da più di 70 ettari di boschi. Non so se avete un'idea ma sono un milione di metri quadrati di terra, un'enormità. Sono diventata imprenditrice agricola, coltivatrice diretta. Ho trovato consulenti ed esperti che mi potessero consigliare su cosa fare e come. E bisognava fare tutto, bisognava ripulire i terreni, rimettere la coltivazione, piantare l'oliveto, l'orto, il vigneto, allevare gli animali ma poi mancava anche l'acqua, bisognava portare l'acqua dappertutto, trovare vecchie fonti, riaprire i sentieri, rifare persino la strada per arrivarci. E così ho cominciato a pianificare tutto come del resto era mia abitudine. Quindi prendevo dei grandissimi fogli sui quali disegnavo i terreni e li suddividevo in coltivazioni da fare, rotazioni, tempi di semina, tempi di raccolta. Insomma, un po' come erano le tabelle che usavo per fare i bilanci quando stavo ancora nello studio. Eppure le cose non funzionavano granché. Era molto difficile decidere che cosa coltivare e come, su quali terreni. Erano tutti diversi, avevano pendenze diverse, esposizioni al sole diverse, forme diverse, composizione del terreno stesso diverso. Insomma, come facevo a pianificare tutto? E anche i consulenti, per quanto esperti, in realtà facevano dei gravi errori, in qualche modo, di previsione. Vi faccio qualche esempio, giusto per darvi un'idea. Il primo autunno ci hanno consigliato di piantare 1200 piante di olivo. In realtà poi erano piccoline così, una volta messe a terra. E in realtà l'inverno ha nevicato, ha nevicato tanto, li ha coperti. E quindi sono morti tutti. Allora in primavera ci hanno consigliato di piantare 1200 alberi da frutto, che erano più resistenti al freddo, lasciando pascolare le pecore che avevamo, perché tanto non avrebbero fatto nessun danno, perché erano senza foglie. Peccato però che l'estate successiva non hanno morti tutti anche loro, perché le pecore, in realtà, avevano mangiato la corteccia degli alberi, facendoli morire. Insomma, io non riuscivo a capire cosa c'era che non stavo capendo. Cioè, cosa c'era che non stava funzionando? Dove era che stavo sbagliando? Poi, una notte, ho fatto un sogno, breve e intenso. Andavo sul terreno appena arato, pronto per la semina, grandissimo, e mi inchinavo per appoggiare l'orecchio sulla terra e ascoltavo. Sentivo ciò che quella terra voleva dirmi. Quali erano le piante che volevano nascere? Qual'era la bellezza che avrebbe voluto mostrare? Qual'era la vita che voleva germogliare? Io ho sentito per la prima volta in tutta me stessa una cosa che non avevo mai sentito prima, in maniera così forte. Che io ero lo strumento per rendere visibile quello che ancora non si era manifestato e che il mio compito era facilitare quel processo, agevolarlo, aiutarlo, ma non controllarlo, non guidarlo. Coltivare è prendersi cura, con pazienza e perseveranza, sapere aspettare che ciò che hai seminato e piantato possa mettere radici, prendere vita e mostrarsi nella sua straordinaria bellezza. In fondo, se ci pensate, è come avere un figlio. E in effetti l'oliveto, il frutteto, il vigneto, l'orto hanno messo radici, hanno preso vita e si sono manifestati nella loro straordinaria bellezza. E vivere proprio questo, trasformarsi in strumento, in cassa di risonanza di qualcosa che ancora non si è manifestato e aiutarlo a renderlo manifesto. Sentire che noi e la Terra e tutti gli esseri siamo interdipendenti. Siamo parte di un unico processo che genera continuamente la vita. E adesso chiedo a voi, per l'ultima volta, provate a tornare a un momento della vostra vita in cui vi siete sentiti di essere parte di qualcosa di più grande, che trascendeva voi stessi e la vita di tutti i giorni. Un momento in cui avete sentito di essere al servizio della vita, della sua espressione, della sua bellezza. uno strumento utile che in qualche modo aiuta a svelare qualcosa che senza di voi non si sarebbe mai potuto manifestare. Questa è l'interdipendenza. Ed è questo il momento dedicato alla vita. però devo dirvi che è vero che la complessità è faticosa. È faticosa da capire ed è difficile ad accettare. Noi parliamo di abbracciarla, viverla, attraversarla, eppure richiedono sforzi enormi. Non solo dobbiamo studiarla, qualcuno lo sa bene, dobbiamo pensarci, dobbiamo rifletterci sopra, ma dobbiamo anche sentirla dentro di noi, provare l'emozione profonda di essere dentro la complessità, di esserne parte. E tutto questo, bisogna dire anche questo, bisogna ammetterlo, tutto questo ha il solo scopo di rinunciare alle certezze, di rinunciare a soluzioni semplici e veloci. Ma perché farlo? In fondo che bisogno c'è di farlo? Cioè, chi c'è obbliga a farlo? Ed ecco la morale della favola. Ci sono momenti in cui è necessario inchinarsi e ascoltare con umiltà, lasciare andare le certezze, lasciare andare il controllo, lasciare andare le soluzioni semplici e veloci e aprirci all'altro lato della nostra vita, l'incertezza, l'interdipendenza. E' questo il momento dedicato alla complessità. E non importa su quali strade dritte stiamo andando, non importa quale bivio stiamo evitando, la complessità ci segue ad ogni passo, ad ogni scelta, ad ogni azione che facciamo per poterci sorprendere a volte con dei doni meravigliosi. Per questo ci vuole il coraggio di vivere la complessità. In effetti, dopo un anno aspettavo Francesco e dopo due anni aspettavo Andrea. La complessità a volte sa essere favolosa. Grazie. Grazie.